Unità cinofile dei Marines Mandavamo avanti i cani soldato che avevamo addestrato nelle unità cinofile dei Marines. Quando i cani si fermavano col muso teso verso il pericolo, eravamo certi che il nemico ci aspettava lì per farci un'imboscata. Quei cani hanno salvato centinaia di noi. Quindi, perché, commento, perché il cane ha i sensi del corpo astrale che si estendono nei sensi del corpo fisico. Il cane percepisce astralmente ciò che l'uomo non percepisce.